e ciao a tutti uogli uo e bentornati su the witcher 3 e sulle memorie di raziel oggi facciamo la missione quella lì di quello che leggete di junior praticamente mentre mi dirigevo verso l'arena di junior c'è stato uno scontro fra tanta gente così e c'era questo bandito per terra questo bandito aveva con sé certificato quindi chiunque abbia con sé questo documento può combattere sul ring quindi quello dell'arena di junior sotto il nome di zdenek infatti mi è apparso a destra come potete vedere fingiti zdenek per partecipare agli incontri quindi noi arriviamo qua salviamo e andiamo a parlare stagliata a capo richiede il livello per stasione ok pagherò mi chiamo zdenek è un contratto eh 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 sai legge eh sai legge esatto bravo da igor devo andare o igor vediamo parla con igor che sarebbe chi no è di la però volevo vedere quante persone ci sono vabbè sono poche porca merda se non sono poche igor è questo seduto qua attenta le guardie sono peggio dei criminali vabbè parla parla dio dio minchia sto cane parla 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 chi Di solito uccido mostri Minchia Vediamo Va bene Ci sto Iniziamo su Cosa c'è? Un bastone o è una No è un'ascia, un'ascia lunga Ok Ah ma con le spade Va bene Gustav Rooney Colpito, colpito, colpito No Ok Ok Ok, 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 ok 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 Preciso Ah ma proprio così Ah ma contro due sto giro Guerriero e Guerriero Due guerrieri Minchia State esagerando guerrieri No Ma cacchia fa? Ah, parato Vabbè Ehi, mancato Mancato Mi spiace No 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 Ok 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 Allora Ne devo ammazzare Almeno uno E questo non mi sembra Giusto da ammazzare Perché Chi stucca Uicca Uicca Questi non li posso neanche parare Voglio Ma Va bene Cioè non posso fare il contrattacco Ecco Ok Ok Dai No No Stavo scherzando Stavo scherzando Stavo scherzando Ok Dai Ok 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 Sei morto Bello Eccolo là Alla fine Cade in mieride Basta Contro le bestie No E allora devi prendere l'altra Che animale è No Non ci credo Una viverna Va bene Dai Dai Attacca Dai Dai No Schivato Colpito 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 No Ok Colpito 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 No Colpito 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 No Dai Che sei morta Ok 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 Chissà poi dove l'hanno presa Una viverna voglio Quella è baggatissima Raccogli tutto Sangue 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 Liberate le bestie Minchia queste sono fortissime Voglio No no Eh vabbè dai No Ok Eh minchia Una è morta No sono morti tutti Ok Vogliamo Boris Vogliamo Boris Sì ma Ma i trellevano proprio i cadaveri Perché se no non bevo niente Ma posso salvare Sì Meno male va Liberiamo Boris E chi è? Sarà un golem Tipo Da qui? Chi è? È un orso Voglio È un orso Dai Dai piglia la spada Ma Boris Boris l'orso Boris Mi spiace per te Mamma Mi sa che la morì Ok Non ti permette mai più Boris Oh Mancato Colpito 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 No Oh Eh scusa Il quen Colpito 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 Vai Ok 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 Minchia Che menata Che mi ha dato No Scappa Ok Preciso Oh ma io Ecco qua Oh Colpito 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 Oh Boris Mi spiace per te Ma Mi sa che Amo Si muerto Boris Preciso Voglio È morto Boris Oh Mamma mia Voglio Mamma mia Difficilissimo È stato Eccolo qua L'ho fatto apposta Bello Eh 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 Ah Ah No Secondo me No A chi Scusami Quanti Quanti Sono Mannaggia A voi Mannaggia Pure Ucan venidos 2 Scusami Quanti Minchia se questo è difficile Voglio mo Ugane mi sta dando fastidio Tanto Eh si si vabbè No Ugane mi sta dando fastidio Ok Dai 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 Ok Qui chi c'è C'è nessuno Ah questo è Igor Qui ha Igor Mancato Ok Ok Ugane la guardia è morto Voglio No No Ok 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 No no Ok No Eh ma si dimmerde Siti Come faccio io Oh Colpito No No E' colpito No Fragole Devo mi sa cominciare a parare Ok Ok Lì ho provocato sanguinamento Qui è meglio Carriamo pure una mazzatina No Ok Ok Questo poi come l'ammazzo No Scusami Ma Quindi Le armi pesanti Non posso contrattaccare Va bene No Frutta secca Vai Quindi frutta secca No Casi questi Mi accogliono Sono finito Geralt Ok E' morto E' morto Voglio Morto pure Igor Ok Colpito 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 No Colpito Questo c'ha lo scudo Ma alla fin fine Non è forte Se fai così Se fai così Che contrattacchi E lo picchi Non è forte Vedi Vedete Dai Ciao Pino Chiave di Igor Fammi vedere qui Che cosa c'è Perché Chi sti Esatto No Non mi serve nulla Lì Devo andare di là Ok Il cane è morto qua Rasto di cane Ok Il pavimento Mostra segni Di una porta Boh Non l'ho capito Vabbè Devo andare di qua Comunque No Da dove si esce Voglio Di qua Allora A proposito Salviamo Non si sa mai Pure un bel quenne Cottiglia d'acqua Sempre utile Qui ci sono Quelli di mazza Dai che è morto Pure questo Eh dai Crepa Ma a fine Rechirati Uomini di mannaia Ok Ok Dai salta Ok Messaggio di Igor Anello d'oro Vediamo Leggiamo il messaggio Di Igor Dato che Recentemente Ci sono state Alcune Incomprensioni Sugli oggetti Di valore Ed è stato Sparso del sangue Senza uno straccio Di buona ragione Voglio rassicurarti Il denario Al sicuro Nella cassaforte L'idiota Che ha Detto Che era Sparito Stava cercando Nel posto Sbagliato In bocca Il corridoio Che Dal livello Superiore Conduce all'arena Poi Volta le spalle Alla grata E guarda il muro Davanti a te Se hai occhi Per vedere Troverai ciò Che cerchi Ci tengo a sottolineare Che le corone Di Junior Non sono state Toccate Non manca Nemmeno un centesimo Giuro sulla mia testa Che Sono al sicuro E aspettano Solo di essere Recuperate Igor Va bene Qui c'è qualcosa Qui c'è questo Va bene Quindi Cerca Igor Dove Nel nascondiglio Qui che cosa c'è Tiglia d'acqua Allora Vediamo Il corridoio Ok tagliato a metà Rasoio Basta Se hai occhi Per vedere Io ce li ho gli occhi Per vedere Però Scusate Rileggiamo il messaggio Eh no Che era questo No Qual era Sto messaggio Questo Allora Inbocca il corridoio Che dal livello superiore Conduce all'arena Poi Volta le spalle Alla grata E guarda il muro Davanti a te Allora Ok No Ma non è questo Scusate Usa i sensi Da Witcher Per lo scrigno Segreto Ok Oh Eh minchia Tenga stri vicino A ste cose Ma non è neanche qua Vediamo se Allora No Ma è neanche qua Voglio No Inbocca il corridoio Che è questo Eh Lì c'è Da fare hard Però Vabbè di qua No Ah no Era una lanterna Mettiti con le spalle Alla grata No Allora Non hai giocato Il Voglio Ricerchiamo Un attimo Vabbè No Qua I segni Di una porta Ha detto No Spento la luce Voglio Ma come la apro Eh Eh ho capito Ma come la apro Se hai occhi Eh no Non so come aprirla Voglio Ah qui Interagis Ok 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 Sovraccarico Ma non ce ne frega Nulla Qui che cosa c'è Sessanta corone Leggi Lettera misteriosa Vediamo A junior Re Radovid Non è affatto soddisfatto Dovei liberarti Degli altri Quattro grandi E invece Sono ancora vivi E hanno scoperto Il tuo ruolo Nel tentato omicidio Non dovevo andare così Per ora Nasconditi nel posto Che ti verrà indicato Dal Latore Di questa lettera E non Farti notare Irrespera che L'animosità Tra i quattro grandi Riuscirà laddove Tu hai fallito In maniera Ok Che cosa ho preso Che Questo ho preso Armatura Cidariano Armatura Temeriana Eh voglio Devo buttare un paio di cose Tipo questa Lascio Eh poi Questa Devo Eh tanto Quante ne ho No non ne ho più Questo Ma no Ce l'ho in mano Però Eh Lasciamo Eh Boh Che sennò Devo buttare Un paio di cose Qui inutili Tipo la pelle d'orso Però mi dispiace 94 Cioè Piuttosto Mi bevo La cosa qua No pesa niente Però No aspetta Eh Questa fa Più Questa fa più 5 Di danni Sennò ci Questa Questa Ancora di più Più 5 Eh Questa Quanto pesa Pesa Più Non lo so Non lo so Proprio Voglio Perché Queste qua Mi piacciono Io Lascerei Questa Un'altra Ne devo Lasciare E Questa E non sono più Sovraccarico Va E salviamo Ok Quindi Cerca Il nascondiglio Parla Con i legami Di Quello La Perfetto Burbi Oh Basta Si è incastrato Vicino al muro Ok Devo salire Su Preciso Qui C'è gente Morta Giusto No Ah no Lì sotto C'è gente Morta Ok Andiamo a Vedere Quindi abbiamo trovato pure il tesoro Voglio Qui che cosa c'è Scusatemi Vediamo Ah No Facciamo addio No Non l'ho capito Ah Questo è il casino Voglio Ah ok Potevo ucciderli Perché adesso Lo sto cercando Nel nascondiglio Andiamo a Vedere Dai dai Ok Piepete Saltalo Ok Eh come GPS Della Minimappa Fa veramente Cacare Lo ripeterò Per sempre Sta cosa Ok Ci siamo Quasi Comunque Sto faccia di merda Di Junior È odiato Da tutti Ecco Ha accordi Con Radovid E E Non è una cosa buona Questa Ponte di San Gregory O Gregory Come Rasputin Che si chiamava Gregory Ma poi abbiamo un livello da mettere O due forze Però poi li metteremo Ciao belli Ciao 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 belli Ok Come faccia Come faccia ad entrare qua Secondo me non c'è Così Ok Tiglio d'acqua serve sempre Voglio Ok Quello lì è da esaminare Spirito nani Ok Allora Esatto Andiamo al piano di sopra Voglio Qua Eh allora Che boh Ah c'è ancora un altro piano Vediamo però Prima di Raccattare Tutto Qua Cos'era quella Cerca nel casino Vediamo se Magari troviamo Un invito Non c'è niente Di qua Solo morte E distruzione Ok Va bene Ok No Quella cosa lì dietro Non si prende Che non mi esce Raccogli Ok E andiamo Dove eravamo andati Primo Ma dovevo Saperlo che era Il casino Oh poi Poi mi incastro Perché questo Più o meno Corre come Tomb Raider Lara Croft Pure non sape Correre Non sistemare Corsa Che faccio Paura Ma io Ma io Sono impavido Ho fatto L'altra Volta Poi Sono morto Asposte Che già ci stiamo mettendo Troppo Ha fatto così Quello Comunque io Li ammazzo A quelli Non glieli do 200 soldi Oren Come si chiamano Non glieli do Ma non ci ho pensato Di proprio Se è troppo lungo Magari Ve lo divido In due Questo video Arrivo a un certo punto Faccio stop E ve lo divido In due Ahà The Witcher Vai Ok Mi stavo Buggando Nell'erba Per fare il cretino E saltare Così Si si va bene Va bene Allora Devo andare là Quindi salviamo Qui Anzi Visto che Un po' Che non salviamo Salviamo così Salva partita Salva Ok E ammazziamo Questo No No niente Ah vedete Ok Tu vuoi morire In me Allora Non si può entrare Ciao Pino Non si può entrare E se non si può entrare Adesso li ammazzo subito Anzi Anzi No li ammazzo Va Se ho due livelli Io potrei metterli In persuasione Facciamo così No Un punto abilità Cacchio Un punto abilità Eh Difficile 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 Vediamo Un punto abilità E Aumenta il raggio Il segno Arda No Gli danni in flera Il segno Igni riducono anche L'armatura No No Eh questa Il bersaglio Non avanza Verso Ok Eh ma È quasi meglio Gwen Eh no Che cosa fai Potenza Si Ma se io facessi Ma comunque Non ce l'ho Vabbè Proviamo così Ah no Ah già sono nemici Praticamente Ho giù sbagliato Voglio Vabbè Eh ho sbagliato Vabbè Sei morto Butta fuori Buttate fuori Che sto Va Dai Com'è Non ti chiedo a buona Sto giro Mi avevate Incastrato Prima Vediamo Vediamo che cosa hanno Raccogli Cuoio Questo costa un sacco di soldi Anche l'unguento Salviamo E entriamo Ciao belli E no Qua Che può entrare Uno alla volta Dai Ok Guardate questi Oh Aspettate che mi riprendo Vi faccio vedere io Entra Dai Eh devo usare sto glitch Voglio Sennò qua Moro Eh crepa Bastardo E' morti tutti Voglio Penso Dardi di balestra Fistek Fistek Per chi ha giocato al primo Sa che cos'è il fistek Questa non mi interessa Questa non mi interessa Un guento E' dardi Ok Controlliamo un po' In giro qua No Non mi interessa Ho detto E' Ok 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 Allora Qui sotto Sovraccarico Però vabbè Non fa niente Ok Dobbiamo vedere sopra Ora però salviamo Non si sa mai Allora Allora Secondo me E' all'ultimo piano Sto faccia di merda Sconfiggi Gli sgherpi E li ho sconfitti Ah no Pardon Non li avevo sconfitti Ok 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 Colpito Colpito duramente pure Ehi si si Ma è sempre Pasqua Pure qualche Boda natale Capuranno No Oh 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 No 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 Ok Eh scusate Sono sempre Utelefono Praticamente Dai Chi ha fatto E sta frecciata Colpito 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 Vabbè Tu si uno Chi rica Muore subito Va Se non arriva Amico Tu Sei morto Pure tu Prima eravete in due Ma ora si è solo Faccia di merda Di uno Ok 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 Taci e combatti Vai 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 Che l'ultima botta L'ultima botta Picchialo forte Ok Preciso Devo dare un'occhiata Va bene Elenco Dei debitori Voglio Ok Ok Vediamo Cos'altro c'è Non mi interessa Non mi interessa Qui Eh Cacchio L'hanno torturato Adesso ci parliamo subito Sta durando tantissimo Sto video Ok Ok Si Ok 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 non mi credo E' una spia praticamente Vediamo Scappa dai Speriamo perché Sino taci io Ok Qui che cosa c'è Ok E basta Dobbiamo andare soltanto a parlare Con Srikra Come cacchio si chiama lui E poi abbiamo finito Abbiamo trovato pure Junior Ok Facciamo prima E qua Va bene Scusate ma Ah 92 E' 92 posso pure Eh Posso pure togliermi tipo questa Che non mi serve a niente Eh Peso 89 Eh dai Comunque sono tutti morti Devo parlare Soltanto con Dijkstra Dijkstra Come cacchio si chiama lui E abbiamo fatto Devo salire qua Sposta di vecchia Ok No ma non si dice vecchia Si dice anziano No è una vecchia Eh Loro Loro Chi Missione secondaria Voglio Vabbè Vabbè Seguiamolo Dai Vediamo dove va Ah Volevano fregarmi Ok Colpito 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 Dai No Secondo me Sì di morti No Dai C'è chi sta giacciere Capachirati Sono una cacata Voglio Una volta Ucciso Quello Ok Questi altri Veramente Sono una cacata Ok Ti ho staccato la testa Eh Scusate Ma Dai Finiscilo Geralt Ok Questi volevano fregarmi Loro e il bambino Eh No No Dai non mi piglio niente Ok 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 Andiamo dai Ok Rimettiamo la spada Dentro Devo salire Devo salire No Devo salire Non lo so No E' giù E' giù E' giù E' giù Dai Spostate Ok Vai Bello Ok Ok E' giù E' giù E' giù Ok Ok E' giù E' giù E' giù E' giù E' giù E' giù Waiu dobbiamo andare da Vernon Roche ma lo faremo nel prossimo video Questo video è stato lunghissimo non so se ve l'ho tagliato in due pezzi ma è stato veramente interessante scoprire tutte queste cose Quindi ci prepariamo e andiamo a parlare con Vernon Roche lì nel campo dei partigiani Ci vediamo al prossimo video vi saluto ciao Waiu alla prossima ciao